Mariano Ferro, leader del Movimento dei Forconi, ha incontrato Matteo Renzi. Cosa vi siete detti? Allora, la richiesta abbiamo fatto di un incontro al Governo nazionale, perché per quello che è successo io credo che tutto quello che c'è stato il 9 dicembre abbia dimostrato ambiamente, se ce ne fosse stato bisogno il disagio che ci ha induttetato. Dire soltanto tutti a casa io credo che sia una cosa ormai macinata e rimacinata, che non serve tra l'altro e che non produce effetti. Potevamo pure protestare oggi davanti al portone come è stato fatto in altre sedi, come è stato fatto a Treviso, ma non credo che porti a nulla. Noi abbiamo girato l'Italia perché vorremmo delle soluzioni, dei fatti, per le imprese, per le piccole e medie imprese. Quindi oggi c'è Renzi che da qualche giorno fa il Presidente del Consiglio. chiediamo a lui cosa vuole fare. Dobbiamo metterlo alla prova, dobbiamo pensare quello che succederà nei prossimi mesi, dopodiché poi magari decideremo di ripartire se non ci fossero i risultati. Ma dobbiamo dare comunque una risposta a tutti quelli che sono in disagio oggi e quindi abbiamo bisogno e necessità di parlare con lui per vedere di modificare alcune cose subito, al più presto, per l'altro al posto zero. Questo gli abbiamo detto già oggi, quindi speriamo che in questi incontri di Roma ci possa venire fuori qualcosa di prodotto. Quando vi incontrerete a Roma? Ci darà la data il sottosegretario del Rio, comunque entro marzo sicuramente. Grazie. Grazie a te. Grande, vediamo.